Ultimo appello per Stroppa con la partita di domenica contro il Parma che potrebbe rappresentare lo spartiacque del Pescara. Vincere e convincere senza se ma o attenuanti in un match all'ora di pranzo che in caso di forfè rimarrebbe sullo stomaco di Stroppa che pagherebbe per tutti. Classico canovaccio per un Pescara che non gira, il 2-0 subito a Verona contro il Chievo, sebbene in inferiorità numerica per l'espulsione di Romagnoli ha spinto la dirigenza all'ultimatum in margini di ottimismo che adesso sono diventati flebili. Non aiuta il rapporto di fiducia con la tifoseria ormai prossimo allo zero. Da più parti insomma si chiede la testa del mister col Pescara che non segna da quasi 400 minuti una classifica difficile, le 10 partite con una formazione sempre diversa, i ben 5 moduli sinora utilizzati. Siamo all'ultima spiaggia insomma, l'ultima possibilità concessa prima dell'addio. Una tempesta di emozioni per il tecnico milanese che adesso lavora ai ripari da ogni pressione, squadra in ritiro a Colli del Tronto, rigorosamente a porte chiuse. Vale la pena tentare il tutto per tutto anche se in caso di vittoria l'agonia potrebbe durare poco. Juve, Roma, Napoli e Milan si presenteranno al cospetto del Pescara in un ciclo terribile che lascia poche speranze di gloria. E' per questo che la dirigenza si sta muovendo in fretta per non trovarsi impreparata al momento dell'esonero. Delio Rossi ha declinato l'invito, il candidato più forte resta Marino, ma la sorpresa più grande sarebbe la coppia pescarese Camplone di Cara, bandiere bianco-azzurre alla prima esperienza in Serie A da tecnici, ma dalle motivazioni insuperabili. Adesso stand by fino a domenica, quando all'ora dell'aperitivo il Pescara dovrà dimostrare di che pasta è fatto, e se il gruppo rimane con l'allenatore, altrimenti via libera un nuovo corso col sacrificio di stroppa in fin dei conti già scaricato.